Ciao a tutti, in questo video vi voglio mostrare il materassino di caduta per pole dance della Lupit Pole e come vedete è questo qui che è veramente gigante e mi è arrivato in 4 giorni ma per chi non conoscesse questa tipologia di prodotto e volesse saperne di più vi consiglio di andare a vedere il video precedente che ho fatto proprio su questo argomento cliccando qui e nulla, adesso io ve lo mostro più da vicino, vi faccio vedere tutti i dettagli e poi lo montiamo assieme mi sono messa vicinissima al materassino per farvi vedere quanto è gigante, è come lo volevo ha un diametro di 150 cm e uno spessore di 12 cm è fucsia ed è un colore bellissimo perché è un fucsia quasi fluo, molto molto acceso e non so se dalla telecamera rende bene e nella parte sotto ha tutta una patina anti scivolo che adesso vi farò vedere meglio e vi farò vedere meglio anche tutte le rifiniture, quindi tutte le cuciture allora come potete vedere la prima cosa che spicca è sicuramente il logo che è presente su una delle quattro fette del materassino ed è perfettamente cucito e queste invece sono le cuciture presenti sul materassino ci sta una cucitura interna che ovviamente non si vede e questa qui esterna e poi vi volevo far vedere in che modo è rifinito anche sul lato insomma, sui quattro lati vediamo se riesco a inquadrar bene ecco, come vedete ci sono tutte delle cerniere lampo che volendo si possono aprire quindi il tappetino può essere lavato inoltre sono presenti due manici, quindi per facilitare il trasporto di questo materassino un laccio che permette appunto alle varie sezioni di restare ben salde durante il trasporto e poi questo velcro che permetterà al tappetino di chiudersi intorno al palo vado a slacciare questo nodino che teneva unite appunto le varie sezioni ok, ce l'ho fatta anche con una mano e vi mostro la stoffa antiscivolo presente sul retro del tappetino facendo lo zoom, vedete, si vede benissimo e potete vedere anche meglio le altre rifiniture come ad esempio gli angoli ok, adesso riappoggio la fotocamera e lo montiamo assieme spero che mi vediate, comincio con l'aprire il tappetino vediamo un pochino da quale parte si apre penso questa, quindi lo avvicino al palo e lo apro ok adesso vado a mettere la sezione più vicino possibile al palo in modo che lo abbracci e adesso vado ad aprire le altre due sezioni questa e questa qui li passo davanti ok vado a levare i manici da mezzo altrimenti li vado a schiacciare con il velcro e poi vado a nascondere questo qui ok allora questo qui non so se riesco a farlo entrare tutto nella videocamera eccolo questo qui è il materassino montato e adesso volevo fare una ripresa dove ci salgo sopra per farvi percepire quantomeno la morbidezza o la durezza di questo materassino ok allora io spero che si riesca a percepire la morbidezza di questo materassino quindi se io ci sto sopra con i piedi non tocco assolutamente terra quindi il materassino sprofonda un pochino ma penso di massimo 3 cm ecco ed è assolutamente confortevole e nulla adesso verificherò sulla mia pelle la tenuta di questo materassino quindi ci andrò a fare qualche esercizio cadendo di proposito sopra per vedere un attimo come reagisce il mio corpo alle cadute spero tanto che questo video vi sia stato utile e ci sentiamo presto ciao 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 ciao